Buongiorno a tutti ragazzi, finalmente siamo tornati a Miami visto che ieri abbiamo fatto un viaggio di 8 ore e in più ci siamo beccati anche un bello hotel vista dal sesto piano dell'aeroporto di un po' di Miami periferia comunque ora scendiamo e andiamo a fare colazione che ho una fame che svengo purtroppo il tempo è una merda, quindi cosa facciamo? ora proviamo ad andare a Key Biscayne, facciamo due o tre foto, magari se non ci sono fulmini nelle vicinanze mi faccio anche un bagno e poi dopo torniamo in centro a Miami, non so bene cosa andremo a vedere, se è Coral Grapes, proviamo magari Villa Vizcaya, non lo so, vediamo un pochino cosa succede Grazie a tutti abbiamo trovato Shrek ed eccoci tornati all'hotel e ora ci facciamo un bel tuff in piscina dopo che ci siamo beccati un acquazzone in piscina e dopo adesso ci siamo sistemati, ecco che andiamo a cena siamo arrivati a South Beach e la prima cosa che facciamo è andare a mangiare che ci affamina ragazzi siamo arrivati a South Beach e ora ci facciamo una bella passeggiata grazie a tutti 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 Grazie per la visione